Mary Jane ASMR Ciao Come stai? Spero tutto tutto molto bene so che sei qui perché hai bisogno di liberare la mente da tutte le negatività che in questo periodo occupano la mente lo so ma non ti devi preoccupare perché io posso aiutarti proverò quantomeno a liberare un po' la tua mente dalle angosce di questo brutto periodo e allora e allora crea un po' di atmosfera possiamo possiamo accendere questa candela ha un profumo buonissimo frutti di bosco si ecco frutti di bosco io l'accendo sempre quando ho bisogno di tranquillizzarmi un po' e di di respirare un profumo dolce che mi libera la mente ora l'accenderò e ci terrà compagnia in questa nostra seduta insieme allora ecco eccolo qua ok profumerà l'ambiente ci siamo soltanto ci terrà compagnia prova prova non pensare a niente ci siamo soltanto io e te e devi stare tranquilla nulla può accadere qui e andiamo a togliere i brutti pensieri li svegliamo li svegliamo li svegliamo li svegliamo li svegliamo tutti i brutti pensieri non devono stare qui zacc 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 per mandarli per mandarli molto lontano dal posto in cui siamo adesso immagino immagino proprio di buttarli fuori buttarli fuori buttarli fuori buttarli fuori io vado io vado a prelevare ogni singolo pensiero negativo che occupa adesso in questo momento la tua testa la tua mente zacc 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 soffia via l'antello andiamo a prelevare tutte le ansie tutte 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 le paure che si annidano inutilmente ingiustamente nella tua testa zack, 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 zack fai dei respiri profondi se ti può tornare utile chiudi gli occhi se ti può tornare utile sfilo 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 tolgo sfilo e rimuovo sfilo, 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 rimuovo tutte 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 le cose brutte riempi la mente solo di pensieri felici inserisca 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 solo pensieri inserisca 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 solo pensieri felici e vado a estrarre 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 in tutti i momenti bui zack, 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 zack dobbli 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 spritz 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 soffi vero brilli 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 ogni singolo pensiero negativo tiriamolo fuori tiriamolo fuori tiriamolo fuori zack 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 butta via l'aria e lasciala andare lasciala andare zack 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 come se ad ogni respiro poi butti fuori tutta la negatività che non ti fa dormire so che fai fatica a dormire la sera a causa di questi pronti pensieri che stanno lì in guardia ogni sera pronti ad attivarsi ad attivarsi una volta che sei andato a letto ma non ti devi preoccupare perché c'è la possibilità di estrarli 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 uno 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 così mi strago dalla tua testa brutti 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 pensieri lascia spazio soltanto alle cose belle ad ogni prelievo un pensiero negativo e meno prelievo 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 tutti prelievo tutti i tuoi pensieri brutti che ti tormentano che non ti danno pace che sono causa dei tuoi che sono causa dei tuoi disturbi del sonno dei tuoi ritardi la mattina devi riuscire a sentirti riposando prelievo 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 vedo anche qui troppi troppi pensieri, non è giusto che stiano qui tagli, continuo a tagliare sprendiamo soffio via lontano da noi e ancora una volta tutte le angosce, gli incubi, le paure, le incertezze ogni male che occupa la tua testa zack, 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 zack è giusto che tu ti senta più rilassato e più riposato che tu abbia svuotato la mente è giusto così che ti sia liberato di tutte le negatività di tutti i tristi pensieri e spero che tu ti senta più serena o serena ti lascio la mia buonanotte ciao al prossimo video ciao ciao ciao